La sua nave non è stata ancora ritrovata. Purtroppo, le ricerche della Davai non hanno dato risultati. La Davai non è stata ancora ritrovata. Non è affondata, io so come ritrovata. Ho sentito anche troppe stupidaggi. Perché non volete credermi? La mia saschenca. La prossima spedizione mi accompagnerai. Te lo prometto. Sasha! Sasha! Capitano Lund, ho la prova che le ricerche della Davai non sono state fatte nel posto giusto. E ora ci dirai anche dove trovarla. Certo. È una brava ragazza. Ascoltala. Avanti tutta! Potrà portare sfortuna. Questa ragazzina non potrà esserci di aiuto in niente. Hai paura? È per salvare l'onore della mia famiglia che devo riportare la Davai. Lund! Non penso di riuscire a ritornare alla Davai. Forza ragazzi, coraggio! Allora, dov'è il polonò? È tutto in cima al mondo. La parte più difficile comincia adesso. Sasha! Sasha! È così bello questo. Mi piacerebbe tanto che anche tu lo vedessi, mia piccola Sasha.